I governanti nel continente erano molto più efficienti. La produzione e il commercio erano così ben controllati nelle Germanie che quasi non esistevano. L'obbedienza all'autorità era lo stile di vita tedesco. Il langravio di Hano e dell'Asia fece radunare dai suoi agenti una massa di contadini per un valore di 3 milioni e mezzo di talleri e li vendette come pecore al re Giorgio e i contadini dell'Asia, con il cuore spezzato, andarono obbedientemente dall'altra parte del mondo e uccisero obbedientemente gli americani senza sapere o chiedere perché, semplicemente credendo di non poter fare altro. Nel frattempo, in Francia, l'economia pianificata era stata accuratamente pianificata e applicata. In ogni quartiere, in ogni momento, si sentiva la mano del governo, dazi sull'importazione e sull'esportazione, sovvenzioni per risollevare un commercio in perdita e tasse per abbatterne uno remunerativo. Questo ramo dell'industria proibito e quello incoraggiato. Un articolo del commercio non doveva essere coltivato perché era coltivato nelle colonie. Un altro articolo poteva essere coltivato e comprato ma non venduto di nuovo. Mentre un terzo articolo poteva essere comprato e venduto ma non lasciare il paese. Inoltre, troviamo leggi che regolano i salari, leggi che regolano i prezzi, leggi che regolano l'interesse del denaro, accordi doganali del tipo più fantasioso e fastidioso aiutati da un complicato schema che era molto ben chiamato Scala Mobile. Uno schema di tale perversa ingegnosità che i dazi variavano sullo stesso articolo e nessuno poteva calcolare in anticipo quello che avrebbe dovuto pagare. A questa incertezza, di per sé la rovina di tutti i commerci, si aggiungeva la severità delle esazioni avvertita da ogni classe di produttori e consumatori. I pedaggi erano così onerosi che spesso raddoppiavano e quadruplicavano i costi di produzione. Venne organizzato un sistema rigorosamente applicato di interferenze con i mercati, con le manifatture, con i macchinari e persino con i negozi. I porti brulicavano di guardia marina, il cui unico compito era quello di ispezionare quasi tutti i processi dell'industria nazionale, di sbirciare in ogni pacco e di tassare ogni articolo. E affinché l'assurdità potesse essere portata all'estremo, gran parte di tutto questo era a titolo di protezione. Vale a dire, il denaro veniva dichiaratamente raccolto e i disagi subiti non per l'uso del governo ma per il beneficio del popolo. In altre parole, i lavoratori venivano derubati affinché l'industria potesse prosperare. In effetti, l'ampiezza dell'ingerenza delle classi dirigenti e i danni che tale ingerenza ha prodotto sono così notevoli da indurre elementi più attenti a chiedersi come la civiltà possa progredire di fronte a ostacoli così ripetuti. In alcuni paesi europei gli ostacoli si sono rivelati insuperabili e il progresso nazionale pertanto si è fermato. Anche in Inghilterra, dove il governo è stato per alcuni secoli meno potente che altrove, è stata inflitta una quantità di male che, sebbene molto minore di quella subita in altri paesi, è sufficientemente grave da formare un capitolo malinconico nella storia della mente umana. Quindi, per prendere solo i fatti più evidenti che non ammettono controversie, è certo che tutti gli interessi più importanti sono stati gravemente danneggiati dai tentativi del legislatore di aiutarli. Invece di lasciare che l'industria segue il proprio corso, è stata disturbata da una serie interminabile di regolamenti tutti destinati al suo bene, tra virgolette, e tutti che hanno inflitto gravi danni. Questi sono alcuni dei benefici che il commercio europeo deve alla cura paterna delle legislature europee. La prima inevitabile conseguenza fu che in ogni parte d'Europa sorsero numerose e potenti bande di contrabbandieri che vivevano disobbediendo alle leggi. Questi uomini, disperati per il timore di essere puniti, diffondevano l'ubriachezza, il furto e la dissolutezza. Dissolutezze grossolane e truffaldine che erano le abitudini naturali di una vita così vagabonda e senza legge. In effetti, nient'altro che il contrabbando impediva ai poveri di morire di fame sotto quel monopolio governativo, benevolmente pianificato per il loro bene. Settimanalmente nei mercati i contrabbandieri catturati venivano misericordiosamente impiccati per i reati minori di vendita di cibo, mentre per le attività commerciali più importanti venivano bruciati vivi o uccisi più lentamente con la tortura più straziante della rottura delle ossa sulla ruota. La tortura e la morte non potrebbero però fermare il contrabbando perché gli esseri umani devono sopravvivere. L'uso della forza nel tentativo di controllare le necessità naturali dell'energia umana ostacola, limita e frena sempre questi usi naturali, ma non può fermarli del tutto. Il contrabbando, il furto e la pirateria hanno sempre fatto parte della storia fino a quest'ultimo secolo perché sono una necessaria protezione della vita umana contro il monopolio protetto dalla forza che è una economia pianificata. La vita umana sopravvivrà su questa terra nonostante l'inferno e l'acqua alta. Ciò che le economie pianificate hanno fatto ovviamente è stato impedire lo sviluppo della civiltà. Qualunque valore morale e spirituale un uomo possa sviluppare durante la sua vita, qualunque altezza filosofica, etica o artistica possa raggiungere, dipende innanzitutto dal fatto che rimanga in vita. Le prime necessità sono il cibo, gli abiti e il riparo dalle intemperie. Il vecchio mondo è rimasto brutale, sanguinario, disumano e indecente per 6.000 anni perché in tutto questo tempo gli uomini non sono mai sfuggiti alle economie pianificate abbastanza a lungo da stabilire un approvvigionamento alimentare affidabile. Ogni volta che ci sono quasi riusciti, come è successo durante gli sconvolgimenti e la disorganizzazione del governo nelle lotte tra gruppi per il potere che sono chiamate l'ascesa dell'Egitto o della Persia o della Grecia o di Roma o della Francia o della Spagna, hanno finito con l'instaurare un governo solido e buono, un'autorità che doveva controllarli. Questo governo ha poi imposto un'economia pianificata con crescente fermezza limitando l'uso naturale delle loro energie fino a quando non sono più riusciti a procurarsi da mangiare e a sostenere il loro governo. Allora si assiste alla caduta dell'Egitto, della Persia, della Grecia, di Roma, della Spagna o della Francia. Questa è la storia dell'economia pianificata da migliaia di anni. Il problema della vita umana su questa terra è quello di trovare il metodo per applicare le energie umane combinate a questa terra per ottenere da essa la possibilità di soddisfare i bisogni della vita umana. Questo problema non è mai stato risolto assumendo che un'autorità controlli gli individui. Nella misura in cui gli uomini di governo si sono assunti questa autorità e responsabilità e hanno usato le loro forze di polizia nel tentativo di controllare gli usi produttivi dell'energia umana. In quella misura l'energia non ha funzionato. Per esempio, quando i tessitori francesi credevano che Luigi XIV controllasse la tessitura, ci fu un'intera stagione in cui non mossero una navetta. Aspettavano che il re dicesse quanti fili di ordito o di trama potevano mettere in ogni centimetro di ogni tipo di tessuto. È vero, se non avessero aspettato avrebbero perso i telai e forse anche la testa, perché il governo è un uso della forza, ma è un uso della forza che dipende dal consenso dei governanti. Se il popolo francese non avesse creduto che il re dovesse controllare la tessitura e lo facesse, non sarebbe stato così stracciato e infredolito quell'inverno. Un altro esempio. Più di duecento anni fa i francesi del Missuri producevano vini che in Francia facevano concorrenza ai vini di Bordeaux. I viticoltori di Bordeaux lanciarono un grido al re per chiedere protezione e gli protesse vietando l'esportazione di vino dal Missuri. Si noti che tutti, compresi i missuriani, credevano che il re controllasse la produzione di vino. Non stava facendo nulla del genere, non poteva. L'energia umana produce il vino e gli individui controllano l'energia umana. Luigi XIV stava usando la forza che è il governo e la forza non può controllare l'energia umana, può solo fermare l'uso dell'energia umana. Gli abitanti del Missuri smisero di produrre più vino di quanto ne bevessero. Se non avessero smesso avrebbero potuto fare a pezzi i viticoltori di Bordeaux? Certamente avrebbero piantato più uva, prodotto più vino, abbassato il prezzo del vino, avrebbero avuto bisogno di più botti, più barche, più coloni. L'America potrebbe essere la Francia di oggi. Il re incoraggiava gli insediamenti per tenere l'America per la Francia, si prendeva cura dei coloni. Tuttavia ci sono due fatti, non piantarono più uva e gli insediamenti crebbero molto lentamente. Ecco un altro episodio. Nella primavera del 1789, Moses Austin, il primo americano a ovest del Mississippi, chiese al governatore di New Orleans il permesso di mettere delle macine in un mulino da costruire a Main, a Breton, nel Missuri. Le macine le aveva già e la sua richiesta era di pura routine perché Don Moses Austin era così importante per la Nuova Spagna che il re gli aveva regalato una lega quadrata di ricchi terreni minerari. Sei mesi dopo mise il suo caposquadro a terminare il mulino mentre lui andava a St. Louis per ottenere il permesso. Il permesso arrivò alle autorità mentre lui era lì, tornò al suo dominio con il permesso e scoprì che non era stato fatto un solo lavoro al mulino. In sua assenza il capomastro era andato a pescare. Moses Austin aveva accumulato due grandi fortune nei nuovi stati e le aveva perse in due crolli a livello nazionale causati dal crollo di boom di speculazione fondiaria. Nell'ordinata Nuova Spagna non si verificarono simili calamità ma per qualche ragione il temperamento dell'amabile Moses Austin divenne inaffidabile. Quando il caposquadro tornò dalla pesca, Don Moses lo licenziò. Non si poteva fare. In Nuova Spagna nemmeno il Don più potente poteva licenziare l'operaio più umile senza il permesso dell'alcalde, del sindaco. Don Moses Austin fu convocato davanti all'alcalde a St. Geneviève a due giorni di viaggio dal mulino incompiuto. Il caso fu rimandato di volta in volta ma alla fine tutti i testimoni furono riuniti. L'alcalde ascoltò le testimonianze, rimproverò il caposquadra e approvò il suo licenziamento. L'anno successivo Moses Austin fece funzionare il suo mulino e per la prima volta gli abitanti del Missouri furono dispensati dal macinare il grano a mano con pestello e mortaio. Un mulino che avrebbe potuto essere costruito in un mese aveva richiesto un anno. La storia iniziale di quasi tutti gli stati dell'Unione è piena di questi casi di economia pianificata perché questo paese è appartenuto al vecchio mondo per tutta la storia della Repubblica. L'invariabile distruzione dell'economia pianificata da parte del governo che cerca di farla rispettare è un risultato quasi fatale perché il governo è necessario. La razza umana non è ancora così intelligente da poter lavorare insieme senza l'uso della forza per proteggersi l'uno dall'altro. Finora gli uomini non sono mai stati in grado di avviare una civiltà senza prima consegnare le loro armi a un poliziotto. La funzione del poliziotto, il governo, è quella di fermare i pochi ladri e assassini che ostacolano il lavoro degli altri con ciò che il lavoro produce. La maggioranza fornisce al poliziotto cibo, alloggio e altri beni di prima necessità. Quando il poliziotto punta la pistola su tutti loro nell'illusione che la forza possa controllare l'energia vitale, non solo ostacola e impedisce che lavorino per se stessi ma taglia anche la propria fonte di approvvigionamento. Questa è un'immagine molto semplice di ciò che accade. Il mondo sembra infinitamente più complesso e complicato di così. Eppure i meccanismi più incomprensibilmente complessi funzionano in base a principi molto semplici. Un bollitore spiega le ferrovie e le del mondo. Pochi segni sulla carta spiegano a un matematico tutta la radio. Un'economia pianificata distrugge il governo perché quando gli uomini usano la forza nel tentativo di controllare le energie produttive non hanno modo di conoscere i costi reali che aumentano automaticamente a un ritmo crescente finché il popolo non può più pagarli. Durante il recente periodo di transizione tra le due guerre in Europa ogni americano che viveva lì poteva osservare questo principio in funzione. Gli effetti della rivoluzione americana hanno sconvolto per un secolo le vecchie economie pianificate dell'Europa occidentale ma i resti di questi monopoli governativi sopravvivono ovunque e la fede europea nell'autorità ha esteso il monopolio governativo su molti prodotti della rivoluzione industriale. Ferrovie, telegrafo, telefono, radio sono monopoli governativi ovunque al di fuori di questa repubblica. Il sale e il tabacco rimangono monopoli governativi in molti luoghi. Tutti gli europei e gli asiatici danno per scontati questi monopoli. Non pensano che il sale, il tabacco, le ferrovie, il telegrafo, i telefoni, la radio non debbano essere di proprietà del governo come non pensano gli americani che il servizio postale non debba esserlo. Così un americano all'estero ha scoperto subito che il monopolio governativo è assoluto e che quindi opera con difficoltà che lo rendono distruttivo per il governo. Essendo assoluto e mantenuto dalle forze di polizia un monopolio governativo non deve necessariamente piacere ai suoi clienti. Un viaggiatore in Europa obbedisce ai funzionari delle ferrovie e accetta il servizio da loro offerto. Altrimenti non viaggia in treno, non può per così dire arrabbiarsi con la New York Central e dare il suo patrocinio alla B&O o viceversa. Perché il monopolio governativo non ha concorrenti. Il passeggero che paga il biglietto non ha alcun effetto su quel monopolio. Non deve temere il suo disappunto, non deve attirarlo con vagoni club e patate al forno dell'Aidaco e non lo fa. Il monopolio governativo non ha bisogno di fare profitti. Può funzionare indefinitamente con un deficit come fa il servizio postale americano. Le tasse servono a colmare il deficit. Il governo le riscuote. I contadini francesi che non hanno mai smesso, mai messo piede su un treno in vita loro. Vivevano della loro famosa zuppa per sostenere gli uomini che gestivano le ferrovie francesi. La funzione propria e necessaria del governo è l'uso della forza. I governi del vecchio mondo, per ragioni che considererò in seguito, usano sempre questa forza contro gli altri in guerra. La loro funzione principale quindi è la forza militare negli intervalli tra i combattimenti. Questa forza è potenziale ed espressa nella diplomazia o politica di potenza. Poiché gli uomini liberi hanno creato ferrovie, telegrafo, telefono, radio, pozzi di petrolio, fabbriche moderne nel corso di questo secolo, un governo che le possieda deve usarle per servire la sua funzione primaria. Ogni governo europeo ne ha bisogno per la guerra e li costruirà, li manterrà in funzione e farà in modo che i suoi sudditi continuino a pagarli, indipendentemente dal fatto che un suddito li utilizzi o meno per i suoi scopi economici naturali. Molti europei considerano la ferrovia di Baghdad come la causa finale della prima guerra mondiale. Il Kaiser non ha cercato di costruire la ferrovia di Baghdad perché gli arabi di Baghdad producono datteri che i berlinesi sono ansiosi di comprare e mangiare. Il governo tedesco voleva quella ferrovia per estendere il suo potere politico militare, il suo uso della forza. Il governo britannico non si oppone al fatto che un tedesco mangi d'atteri. Gli uomini del governo britannico hanno impedito la ferrovia di Baghdad perché avrebbe esteso l'uso della forza da parte del Kaiser. Il governo dello zar russo non costruì la ferrovia attraverso l'altipiano armeno vuoto per ottenere un profitto mettendo i coloni sulla terra e trasportando il cibo che avrebbero prodotto. Il governo non ha bisogno di fare profitti, prende quello che vuole. Il governo fece passare quella ferrovia direttamente dalle enormi caserme dello zar fino alla frontiera turca mancando la grande capitale dell'Armenia di quattro miglia senza strade. Come ben ricordano le mie ossa malconce e indignate. Nei grandi centri di produzione russi si trovano ora nei monti Urali per alcuna ragione economica naturale. Nessun governo può gestire un monopolio economico per scopi economici. La funzione propria e necessaria degli uomini di governo è l'uso della forza. Questo è il loro compito. Dovrebbero considerare il loro paese da un punto di vista politico militare. Ad esempio, quando il Texas entrò nell'Unione, gli uomini di Washington considerarono quel territorio come un'area su cui si estendeva l'uso della forza militare. Questo era il loro dovere, così come è compito di un agricoltore, considerare la terra come una fonte di raccolto. Quando gli uomini di governo detengono un monopolio economico devono usarlo per servire la funzione propria del governo che è l'uso della forza. Il risultato è che i servizi di tutte le estensioni europee dell'economia pianificata sono per un americano notoriamente scadenti. Quando vivevo da qualche anno a Parigi, mi sono fatta un'immeritata reputazione di spiritosa in una cerchia ristretta affermando ingenuamente un fatto. Una visitatrice americana, dopo aver cercato per mezz'ora di ottenere un numero di telefono parigino, mi chiese che cosa mai fate qui quando volete telefonare a qualcuno e io risposi sinceramente prendo un taxi. Il monopolio governativo, essendo mantenuto con la forza, non dipende dai suoi clienti. I loro desideri non hanno alcun effetto diretto su di esso. Pertanto gli uomini di governo che gestiscono la produzione e la distribuzione di beni e servizi non hanno modo di conoscere i costi reali di questi beni e servizi. Il costo reale di qualsiasi oggetto, prodotto o servizio di cui gli esseri umani hanno bisogno o che desiderano è la quantità di energia umana che devono utilizzare per ottenerlo. Sia che un uomo guadagni denaro, sia che lo spenda, sia che vanghi il suo giardino, misura il valore di ciò che ottiene dalla quantità di energia che gli costa. Se costa troppo, otterrà qualcos'altro. Se entrambi costano troppo, non otterrà nessuno dei due. Questa misura naturale dei costi agisce direttamente su un'economia non protetta. I proprietari di navi a vela sapevano subito quando il loro servizio costava troppo. I loro clienti ricorrevano ai battelli a vapore. I proprietari di battelli fluviali a vapore sapevano quando il loro servizio costava troppo i loro clienti si rivolgevano alle ferrovie. I monopoli delle ferrovie e dei tram sapevano quando i loro costi erano troppo alti perché i loro clienti compravano auto a motore. Le ferrovie si sono rifugiate presso il governo, i tram sono scomparsi. Quando un monopolio non protetto si fa pagare troppo, il popolo lo distrugge abbandonandolo e i proprietari di quei beni o servizi troppo cari si bloccano immediatamente perché sanno di essere spacciati come proprietari se non riducono i costi, costi reali in termini di energia umana. Ma questa minaccia di diserzione non esiste per gli uomini di governo che hanno il monopolio di tutti i beni e servizi che corrispondono a un'economia pianificata. Il loro monopolio è assoluto, non ha concorrenti. Le persone che pagano i suoi costi in energia umana non possono disertarlo. Se i suoi costi sono troppo alti li pagano senza mai ottenere i beni o utilizzare i servizi che stanno pagando, come i contadini europei pagano le ferrovie e in tutta la loro vita non si allontanano mai dal loro luogo di nascita più di quanto possano fare a piedi, tranne quando vengono spediti all'addestramento militare o alla guerra. Così, agli uomini che gestiscono le ferrovie europee sembra sempre che i treni offrano tutto il servizio che si desidera a un costo ragionevole nei termini artificiali di marchi, franchi e lire. Non hanno modo di conoscere i costi reali dell'energia umana perché le persone che pagano questi costi non hanno mezzi pacifici per protestare contro i costi troppo alti e questi costi reali devono aumentare costantemente perché il tentativo di esercitare un controllo dell'energia umana che non può essere esercitato è uno spreco di energia umana che deve aumentare costantemente. Vi illustro cosa intendo. Supponiamo che durante l'armistizio abbiate comprato un rocchetto di filo in un grande magazzino francese. Non che sia un rocchetto, il filo è avvolto su un pezzo di carta perché i parsimoniosi francesi non sprecano il legno. Ci vogliono pochi secondi per dire un rocchetto di filo di cotone per favore, bianco misura 60. Con grazia l'impiegata prende il filo in mano, esce da dietro il bancone e vi chiede cortesemente di accompagnarla. Vi accompagna attraverso il negozio, forse per mezzo isolato e vi indica il vostro posto alla fine di una fila d'attesa. Dopo una ventina di minuti raggiungete la grata del cassiere. Il cassiere è seduto dietro le sbarre su un alto sgabello con un ampio libro mastro aperto davanti a sé, la boccetta d'inchiostro stappata e la penna in mano. Le chiede e scrive sul registro il suo nome, il suo indirizzo e su sua dettatura un rocchetto di filo di cotone bianco misura 60. Lo prenderà signore, se lo farà consegnare? Lo prenderà, lo scrive e il prezzo 40 centesimi. Offre il pagamento a madame un franco, scrive questi importi e la data, l'ora e il minuto. Date il franco al commesso che lo dà il cassiere, il quale vi dà il resto, guarda il filo e vi chiede se siete soddisfatti. Lo siete. Un tratto della sua penna verifica questo fatto. L'impiegata avvolge il filo in modo splendido in un banco di confezionamento vicino e vi consegna il pacchetto. Voi avete speso 30 minuti, anche lei, il cassiere ne ha spesi forse 5, un'ora e 5 minuti per comprare una bobina di filo. I grandi magazzini francesi sono stati all'altezza dei migliori del mondo. I francesi sono esperti commercianti, conoscevano i sistemi a tubi pneumatici. Il governo di Parigi ne possedeva uno che trasportava banconote a consegna speciale più rapidamente di quanto si potesse ottenere un numero di telefono. I proprietari dei grandi magazzini ammiravano i sistemi di cassa dei negozi americani, ma se li avessero installati sarebbero stati costretti a mantenere il cassiere, il suo libromastro, la sua pena e il suo inchiostro. Perché? Perché nei mercati dell'epoca di Napoleone i venditori imbrogliavano gli acquirenti. Napoleone proteggeva i compratori, decretò che i dettagli di ogni vendita dovevano essere scritti in un libro con penna e inchiostro alla presenza del venditore e dell'acquirente da una terza persona che doveva vedere l'articolo e il trasferimento di denaro. L'acquirente doveva dichiararsi soddisfatto e il registro doveva essere conservato in modo permanente per verificare i fatti in caso di reclami futuri. Durante il secolo scorso il merchandising francese era cresciuto enormemente. È cresciuto enormemente, ma non il metodo di protezione degli acquirenti. Ho chiesto a un proprietario del più grande magazzino francese perché il decreto di Napoleone non fosse stato abrogato. Mi ha risposto, ma signora è in vigore da più di cento anni, non può essere abrogato. Pensi alle commesse, ai cassieri, agli archivisti, ai guardiani che sorvegliano i magazzini dei libri contabili. Perderebbero il lavoro. Era scioccato. Mi vedeva come l'americana materialista che pensava solo al profitto senza curarsi di tutti quegli esseri umani. Pensavo fossero disoccupati. Non risultavano disoccupati in nessun registro, ma la disoccupazione reale in Francia e in tutta Europa era enorme. Per ogni acquisto in un grande magazzino francese si perdeva qualcosa come un'ora di tempo, milioni di ore al giorno e i cassieri, gli addetti all'archiviazione, gli osservatori di quei registri non hanno mai svolto un lavoro produttivo. Tutta questa disoccupazione forzata rendeva impossibile fare qualcosa in fretta. La vita europea era tranquilla, doveva esserlo. Questo affascinava gli americani che passavano allegramente tutte le noiose attese fatte per loro, tutta la burocrazia sciolta, tutti i timbri della polizia posti sui loro documenti da Cux o Amexco o dai loro banchieri o portinai d'albergo. Come era serena, come era colta la vita europea, dicevano. Nessuno si affrettava, tutti avevano tempo per meditare e divertirsi, passeggiare nei parchi, sedersi ai tavoli dei caffè sotto i platani. In confronto la vita americana era così molesta, frettolosa, maleducata e rozza. Si poteva riconoscere un americano o un'americana da dove la si vedeva, dal modo in cui camminava, mento in alto, testa alta, passo spedito per andare da qualche parte, con una padronanza inconsapevole della terra che calpestava. Nessun europeo si muoveva così. Gli europei camminavano con prudenza e lentamente. Ogni loro gesto consumava il tempo lasciandolo semplicemente passare. Questo ha fatto sì che le loro vite e i loro paesi sembrassero così riposanti per gli americani. E lo stesso modo di camminare, lo stesso senso del tempo inutile, lo si può vedere nei prigionieri di qualsiasi carcere americano. Io e un'amica abbiamo comprato una Ford a Parigi, una Ford francese costruita, o forse assemblata, da meccanici francesi, la cui abilità è insuperabile al mondo. Non so quale fosse il salario degli uomini che hanno costruito quella Ford, né come vivessero, ma so come vivevano i lavoratori francesi qualificati in generale perché ho amici della classe operaia francese. Il loro salario permetteva loro di vivere dove il loro status di classe li manteneva comunque, nei quartieri operai della città, cioè dove le strade strette sono sporche di escrementi umani perché le case popolari non hanno le tubature, dove il loro cibo era pane e formaggio e a volte carne di cavallo. Dove le loro camere da letto non hanno finestre a causa dell'alta tassa sulle finestre e i loro denti marciscono nelle mascelle perché come possono gli operai per mettersi i dentisti e due su tre dei loro bambini muoiono a meno di un anno. Le tasse facevano costare la Ford in dollari il doppio di quanto sarebbe costata negli Stati Uniti. Per un francese il prezzo era una vera fortuna. Si trattava di una Ford qualunque allora oggetto di migliaia di battute in America. In Europa il fatto di possederla annunciava assurdamente che si era persone ricche. Un operaio francese grazie a un'attenta pianificazione, alla fortuna e a mesi o anni di parsimonia, poteva possedere una bicicletta. Dopo aver acquistato questa splendida Ford io e la mia amica ci siamo messi in testa di ottenere il permesso di guidarle e di portarla fuori da Parigi e dalla Francia. Lavorammo separatamente per sfruttare doppiamente il tempo. Per sei settimane lavorammo costantemente ogni giorno e ogni ora in cui gli uffici del governo erano aperti. Quando chiudevano ci riunivamo per riposare nell'incantevole ozio di un caffè e confrontavamo gli appunti e i modi per tirare i fili. Esauste, tornammo a casa in metropolitana in seconda classe. I lavoratori ovviamente viaggiano in terza classe in Europa. Uno dei requisiti era quello di scattare 12 fototessere di quell'auto, avvolto scoperto, senza cappello. Esagero, il regolamento non parlava di cappello, ma questa era una Ford uscita nuda dalla fabbrica. Non un dettaglio o un marchio la distingueva da milioni di vetture del suo genere. Eppure dovetti ingaggiare un fotografo per scattare una foto frontale a tutto radiatore dove si trovava ancora nel salone di vendita e fare 12 stampe, ognuna delle quali certificata come un ritratto di quella identica vettura. Il funzionario competente le incollò una per una in mia presenza su 12 documenti identici, ognuno dei quali fu compilato con l'inchiostro, firmato e controfirmato, timbrato e vidimato. Naturalmente li pagai. Uno mi è stato consegnato. Dopo sei settimane di duro lavoro avevamo tutti i documenti dell'auto. Erano spessi quasi un centimetro stesi in piano. Ognuno di essi era correttamente firmato e timbrato. Ognuno aveva in più il piccolo timbro incollato che mostrava che era stata pagata la tassa che deve essere pagata su ogni documento legale. Questa è la tassa di bollo che gli americani si sono rifiutati di pagare. Credo che avessimo anche le targhe. So che avevamo le patenti di guida. Finalmente siamo partite con la nostra auto e al primo isolato ci hanno fermato due poliziotti. I poliziotti europei vanno sempre in coppia in modo che uno controlli l'altro. Non so se questo renda impossibile corrompere uno dei due o se sia necessario corromperli entrambi. Non ho mai provato a comprare un poliziotto. Essere fermati dalla polizia non era insolito ovviamente. I documenti dell'auto erano in tasca e li ho consegnati con fiducia insieme ai nostri documenti personali come richiesto. I poliziotti hanno esaminato ciascuno di essi, li hanno trovati in ordine, li hanno annotati nei loro libretti neri, poi cortesemente ci hanno arrestate. Nessuno ci aveva parlato della lastra di ottone. Non ne avevamo mai sentito parlare. L'auto deve avere una targhetta di ottone che misura esattamente così per così, circa 4x6x4 pollici, incisa a mano con il nome e l'indirizzo completo del proprietario, fissata al cruscotto con quattro viti di ottone di determinate dimensioni, attraverso quattro fori di determinate dimensioni, un foro in ogni angolo della targhetta di ottone. La mia amica si è accasciata al volante. È troppo, ha detto. Lasciamo perdere tutto e andiamo in treno. Signori, siamo completamente desolate, disse. Pensate a voi stessi che siamo americane e strane alla bella Francia. Immaginate come abbiamo pianificato, risparmiato, sognato e sperato che arrivasse il giorno in cui avremmo visto Parigi. E alla fine eccoci qua. Vediamo con i nostri occhi la bella Parigi, la gloria della cultura e dell'arte francese in modo del tutto naturale, non è vero? Cerchiamo di comportarci con la massima correttezza. In effetti, signori, che cosa abbiamo fatto? Di quale colpa ci si accusa? Vedete i nostri passaporti, le nostre carte di identità, il nostro permesso di entrare in Francia e di rimanere in Francia, di entrare a Parigi e di vivere a Parigi e purtroppo di lasciare la Francia e di partire da Parigi perché tutte le gioie devono finire? No? Questa è la vita. In effetti avete esaminato bene tutti questi documenti e vedete che sono completamente in ordine, non è vero? E le ricevute per l'affitto, per l'imposta sulle finestre, per l'imposta sugli stranieri, per l'imposta sul reddito e per l'affitto, tutto ben fatto, non è vero? Tutto ben visto dalle autorità. Bene, questo è quanto. Ma deve essere la buona logica sempre, non è vero? Si vede che noi, noi non abbiamo commesso alcuna colpa. Non siamo noi a non avere la targa di ottone, ma la macchina. Signori, nella buona logica si deve ammettere che è vostro preciso dovere arrestare la macchina. Bene, fate il vostro dovere, signori. Quanto a noi, ripudiamo l'auto, l'abbandoniamo e ce ne andiamo. Siamo state trattenute. I poliziotti accettarono la mia logica, ma con cortesia dissero che l'auto non poteva stare lì dove era. Era vietato parcheggiarla anche solo per un istante. La mia amica suggerì che il venditore l'avrebbe riportata indietro. Con cortesia i poliziotti dissero che senza la targhetta di ottone l'auto non poteva spostarsi di un centimetro da dove si trovava. Era vietato. In tutta tranquillità, signori, abbiamo detto, lasciamo questo problema nelle vostre mani. Prendiamo un taxi e torniamo a casa. Misteriosamente, il giorno dopo, l'auto era in vendita. In due settimane la targhetta d'ottone era splendidamente incisa a mano e esattamente due mesi dopo aver pagato l'auto abbiamo potuto guidarla. Naturalmente non potevamo semplicemente uscire da Parigi. Siamo state fermate al limite della città, la barriera, mentre un funzionario misurava la benzina nel serbatoio e scriveva il numero di pinte sul nostro permesso per rientrare a Parigi. Questa disposizione ci permetteva di scegliere la strada per il ritorno perché il permesso era valido per qualsiasi strada. Al ritorno la benzina nel serbatoio sarebbe stata misurata di nuovo e avremmo pagato la tassa di Parigi su ogni litro importato. Giusto, non è vero? A noi ricche possessore di una Ford doveva essere permesso di portare la benzina a Parigi senza tasse mentre la classe media pagava la tassa sulla benzina che usava per pulire i vestiti? Questi incidenti illustrano un luogo comune. Gli europei e gli altri popoli di tutto il mondo danno per scontata questa regolamentazione. Se a volte non riuscite a essere pazienti come loro vi dicono con sorpresa ma naturalmente ci vuole tempo per ottenere il permesso. Grazie. Grazie.